Amiche salve a tutti come sempre ben ritrovati spesso si fanno acquisti ad cazzum come si dice altre volte si fanno acquisti che risultano veramente buoni e questo è il caso di una luce a led con sensori di movimento qualche tempo fa ne avevo comprata una simile per l'ingresso di casa mia perché ogni volta quando tornavo a casa e già era buio avevo problemi a trovare la serratura della porta quindi stavo lì a cercare a dare tanti colpetti con la chiave ma non infilavo a volte capita anche a me lo confesso comunque sia alla fine proprio sulla porta ho montato una lucetta led con sensori di movimento meravigliosa appena mi avvicino passa accende la luce senza stare lì a cercare interruttori fare collegamenti strani eccetera anche perché è a batteria già mi sta funzionando da quanto saranno sei mesi almeno e ho risolto un problema mi è costato all'epoca 5 6 7 euro non mi ricordo quanto ma il costo è relativo perché se il problema te lo risolve alla fine ti dimentichi del costo che hai pagato certo deve essere congruo comunque a quello che è il prodotto che ricevi ma in ogni caso ho un problema in casa o un corridoio del garage che mi resta sempre al buio ho problemi all'impianto elettrico e non voglio stare lì a fare modifiche perché ho dei fili vecchi o qualche interruttore preistorico e allora ho detto la soluzione più semplice qual è è semplicemente che quando passo e ho bisogno di illuminare proprio il punto di tragitto di transito ci metto un altro di questi cosi un'altra di queste lampadine ne ho comprato un set nel quale ne arrivano due una l'ho già montata infatti per finta c'è qua la scatoletta ma è già montata e l'altra è questa qua ve la mostro è piccolina ma fa una luce assolutamente di tutto rispetto speriamo che funzioni questa qua ancora non ho visto ecco vedete è un ambiente di circa 3 metri per 3 lo illumina discretamente non dico che sia come una lampadina da 100 watt questo assolutamente no però si difende e sicuramente due avranno un risultato migliore che una qua c'è il sensore vedete il piccolo sensore di movimento che viene dichiarato con un angolo di 120 gradi effettivamente l'angolo di risposta quindi di accensione è buono per quanto riguarda invece le modalità c'è la modalità on off e automatico on cioè off chiaramente è spento l'off che cavolo sto dicendo on è acceso off è spento l'automatico attiva praticamente il sensore di movimento dopo che passo o se non c'è nessun movimento resta acceso per circa 20 secondi quindi anche dal punto di vista del consumo energetico è buono considerato che all'interno qua sono alloggiati 12 neon ragazzi devo smettere di fare colazione col vino sono alloggiati 12 led e il consumo è assolutamente irrisorio consumo che viene alimentato tramite una batteria integrata che si trova all'interno poi magari un giorno avrò anche la voglia di andare a smontare queste sei vitine a croce quindi un'operazione assolutamente fattibile per andare a cercare che tipo di batteria c'è alloggiata dentro questo lo farò chiaramente nel momento in cui noterò un calo di prestazioni quindi dalla carica all'effettiva scarica insomma noterò un abbassamento del potere di questa batteria magari per sostituirla con una identica o una adottata perché il bello del fai da te poi è fare due piccoli collegamenti magari andarci a mettere una qualsiasi batteria a stilo tipo AA o AAA in ogni caso sicuramente quasi sicuramente qua sarà un'altra batteria però fa il suo per così dire porco lavoro l'alimentazione, la ricarica viene garantita tramite questo cavetto che è identico a quelli che oramai si trovano per i cellulari per la ricarica dei cellulari non so mai dire se è micro usb o mini usb faccio confusione ma voi lo sapete meglio di me e qui c'è per l'appunto la porta di ricarica e quando si va a ricaricare appare in basso una luce rossa fissa che cambia di colore e diventerà verde nel momento in cui la batteria raggiunge la piena carica dopodiché niente si va a installare qua c'è anche il gancetto posteriore per mettere la luce su un chiodino oppure sempre nella confezione arriva questo piccolo set dove troviamo un biadesivo 3M una placchetta di ferro un metallo comunque che riceve la trazione magnetica di una calamita e una calamita dove vi è attaccato un adesivo quindi è possibile attaccare la calamita alla nostra fonte luminosa e col biadesivo attaccarlo dove più ci interessa volendo c'è gente che addirittura utilizza questi dispositivi per illuminare l'interno di un armadio di un frigorifero se ti si è bruciata la lucetta o di qualsiasi altra cosa in ogni caso io l'uso per un corridoio ma ciò non toglie che laddove si ha la necessità di attivare una luce proprio quando si entra questo può essere un interessante sistema la portata della ricezione del sensore è di circa 3-5 metri all'interno di casa con tutto che ci sono comunque probabilmente anche oggetti che fanno rimbalzare la percezione di questo sensore a 3 metri mi funziona benissimo per evitare che ogni volta che passo davanti in prossimità del corridoio che mi interessa si accenda perché magari sto transitando in un altro ambiente non mi interessa passare dal corridoio ho angolato l'altro dispositivo in maniera che la mia presenza non sia rilevata da questo sensore semplicemente giocando sull'angolo però buona, ottima la sensibilità perché già di notte o comunque quando è buio io passo e in un istante si accende quindi mi illumina d'immenso come si suol dire il costo è comunque proporzionato a quello che è la qualità considerate che non è una super qualità di plastiche però alla fine fa il suo lavoro io l'ho pagato una quindicina di euro e sono assolutamente soddisfatto soddisfatto in toto perché l'ho ancorato al momento tramite un chiodino ma anche se l'avessi dovuto mettere con questo tipo di supporto il fatto che si possa ogni volta rimuovere e staccare dalla calamita per la ricarica ne fa un oggetto assolutamente interessante e poi niente la ricarica è qualcosa di assolutamente semplice e se proprio andate a perdere il cavetto voglio dire un cellulare o un caricabatterie per cellulari di questo tipo con una mini micro usb insomma sempre si trova vedete? sta nel palmo di una mano ma vi assicuro la luce che fa è di tutto rispetto volendo potrei anche spegnere la luce qua dove sto io per cercare di darvi un'idea però voglio dire è una cosa piuttosto allora proviamo spegniamo ecco siamo al buio voilà vedete? è buona assolutamente qua da dietro vedo che c'è un'ombra di qualcosa non so se questa potrebbe essere la batteria o chissà che tipo di controller non lo so non la voglio ancora smontare non voglio fare l'autopsia perché mi sembra male però ragazzi per oi sono passati i 20 secondi evidentemente ecco ora muovo e torna ad accendersi per quello che è io ripeto è un acquisto assolutamente sensato e comunque raggiunge lo scopo quindi 15 euro per due di questi mi va benissimo d'accordo? in ogni caso come dicevo vi lascio il link in descrizione iscrivetevi al canale e poi ci becchiamo e adesso basta ciao ciao